L'auditorium a Piazza d'Armi si farà. A confermarlo è stato l'ambasciatore australiano in visita nel comune dell'Aquila. Dall'Australia arrivano 3 milioni di euro del post-sisma, ma la tempistica ad oggi non si conosce. Greg French, rappresentante australiano in Italia, ha incontrato una delegazione di rappresentanti dell'amministrazione comunale dell'Aquila, guidata dal sindaco Pierluigi Biondi. Incontro utile per rinverdire rapporti di amicizia e collaborazione tra il comune e il popolo australiano, che ha donato ben 3 milioni di euro per realizzare un auditorium a Piazza d'Armi. Un progetto che prevede un parcheggio da 400 posti e un auditorium che potrà ospitare fino a 800 persone, oltre al parco urbano. I fondi ci sono. Si parte dai 3 milioni raccolti dagli abruzzesi in Australia del dopo-sisma, ai quali si aggiungono 15 milioni del comune dell'Aquila, provenienti dalla vincita del bando nazionale Piano Città. Ancora non si conoscono però le tempistiche. All'incontro hanno partecipato anche i musicisti dell'Australian String Quartet, che si sono esibiti nell'auditorium del parco in occasione di un concerto, organizzato dall'Aquila Siamo Noi, in collaborazione con la Baratelli.